What is it? Poche categorie descrivono il Made in Italy in maniera più ampia e condivisa del senso di comunità, un senso di appartenenza che pervade tutta la storia dell'arte italiana, dalle origini fino agli artisti più contemporanei. Una attinenza a una tradizione del passato, a un patrimonio condiviso con cui tutti gli artisti di ogni epoca e generazione hanno dovuto misurarsi. Aldo Giannotti e Pablo Chiaregin sono due artisti italiani che da molti anni vivono a Vienna. Questa non è la loro prima collaborazione, sono abituati a lavorare insieme e in questo costituiscono una piccola comunità che così tanto ha a che fare con questo lavoro. Il Monumento al Tuffatore Triestino, un lavoro recentissimo del 2021 che hanno realizzato a Trieste. Il Monumento al Tuffatore Triestino, quindi il Monumento al Tuffatore Triestino, è un lavoro realizzato in collaborazione con Pablo Chiaregin. Siamo chiamati un lavoro di scultura collaborativa. Questo è stato anche un evento participativo, dove abbiamo invitato persone a riuscire a un trampolino in medio del centro della città. E con questo abbiamo studiato, quale tipo di movimento possiamo usare a focalizzare il monumento che vogliamo creare. Ciò che abbiamo fatto, abbiamo investigato l'area e l'heritaggio, l'heritaggio culturale della città. Abbiamo trovato questa vecchia tradizione, che è la CLANFA. La CLANFA è il nome di un'attività tradizionale che ha già avuto 100 anni realizzato e riproposto ogni settimana sul costo di Trieste. Quindi abbiamo iniziato con l'idea di movimento e abbiamo chiesto di creare un monumento che era in sviluppo, quindi era una descrizione di movimento. Ciò che abbiamo cercato di fare con questa installazione è cercare di reshape la forma che abbiamo approcciato i monumenti. Il monumento non exista se nessuno si mette su questo e usa. È un progetto che non è solo fatto in Italia, e non è solo fatto con materiale come la stona e il marbre che si trovano in Auregina, in questo ambiente, ma anche connessa una forma di openza verso il elemento partecipativo di cose, che, in mio modo di capire o comprensere, è molto italiano. L'idea di questo monumento comincia da involverare le persone. Il monumento non funziona se le persone non si mettono sull'Italia. Questo è, per noi, tipicamente italiano. Il monumento nello spazio pubblico è sicuramente una delle caratteristiche che contraddistinguono l'Italia, il Made in Italy all'estero. I turisti, le persone di tutte le generazioni, di tutte le età che vengono in Italia, scandiscono il loro stare in Italia attraverso la visita a monumenti, a siti della tradizione e del passato. In questo caso, Aldo Giannotti e Pablo Chieveghin rendono un landmark, rendono monumentale un gesto, un gesto collettivo, un gesto di una comunità che viene in questo modo fissato per sempre.